Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Seracino da Benessere Ipnosi Soluzione. Oggi ragazzi rispondo ad un signore che mi ha parlato di calvizie di capelli. Se l'ipnosi può fare, l'ipnosi di CS vera e professionale, può fare qualcosa per i suoi capelli. Bene, nella nostra associazione Ipnolegi Associati abbiamo sviluppato un MP3 audio di CS dal titolo No Calvizie di autoipnosi di CS vera e professionale che ti fa fermare la caduta dei capelli, ti aumenta la crescita dei capelli adesso ti metterai a ridere ma è così perché l'ipnosi agisce sulla mente e sul corpo e inoltre fa anche in molti casi spuntare i capelli dove non ci sono. Però sul fatto di far spuntare i capelli in zone dove non ci sono c'è bisogno invece di fare delle sessioni anche online oppure dal vivo perché lì c'è un'altra tecnica per aumentare la fuoriuscita dei capelli. Però ci ho detto anche con un solo audio, MP3, DCS, di autoipnosi vera e professionale da non confondere con l'ipnosi che trovi in giro gratis o a pochi spicci non ha nulla a che vedere, stiamo parlando di alta professionalità direttamente da Los Angeles Beverly Hills con tantissimi anni di storia di antico saper di quest'arte, di queste suggestioni ad hoc bene, tu puoi risolvere il tuo problema della calvizia anche della alopecia areata perché ha problemi anche perché ricordati la causa e la soluzione stanno nel tuo subcosciente che tu ci creda o no. Ora se entri con l'ipnosi DCS vera e professionale anche da solo nel tuo pilota automatico, nel tuo subcosciente, nell'88% della tua mente che controlla tutte le funzioni neurovegetative compreso la crescita delle unghie la crescita dei capelli, le emozioni, la fantasia tutto ciò che riguarda la salute, il benessere tutto per la mia associazione per il sottoscritto psicosomatico tranne forse quando qualcosa proviene dall'esterno come quando uno fa un incidente però ricordati anche se la ragione, la coscienza, la logica, la razionalità non riescono a spiegarselo perché quella persona, quell'uomo, quella donna ha avuto un tumore, un cancro, un diabete una calvizia, un'alopecia qualsiasi cosa, una depressione, un panico bene, il tuo subcosciente sa la ragione, il motivo, la causa e sa anche e conosce la soluzione per cui tu o vai presso un professionista di ipnosi della tua zona dovunque tu sia, Hong Kong, Parigi, Los Angeles, Roma, Milano Amsterdam eccetera eccetera oppure provi un MP3 di CS dal titolo no calvizie e poi come dico sempre io che sono di estrazione san tommasiana io l'ho provato, ti posso garantire che funziona alla grande alla grande, per non dire altro l'ho provato su di me, io provo tutto su di me ok? e con la dottoressa Brunini eccetera eccetera io ti posso garantire che ti meraviglierai a dir poco ok? ti meraviglierai poi se tu non credi, va bene, accomoditi pure segui tutto l'iter che ti dice qualcun altro non ci sono problemi quindi hai due possibilità o ti siedi presso un professionista di ipnosi della tua zona che ripeto ancora una volta può essere un medico, uno psicologo, uno psicoterapeuta che però abbia trattato casi di calvizie parli, chiedi, quante sedute, sessioni quanto costa, quanto non costa ed inizi oppure, e poi giudichi sui risultati, sui fatti e non sui tentativi sugli strumenti e poi, oppure se non hai voglia di girare cappelle perché non vuoi percepisci magari di essere manipolato non hai tempo non vuoi essere visto non vuoi raccontare i tuoi fatti in giro o non vuoi essere visto da altri magari che ti conoscono eccetera eccetera bene, puoi utilizzare un audio mp3 dcs lo titolo no calvizie e cambiare la tua vita tu vedrai i capelli crescere alla velocità della luce fermare la caduta dei capelli la desertificazione ed essere finalmente felice a te la scelta fammi tutte le domande del caso visita la mia fanpage su facebook ipnosi autipnosi del dottor Claudio Saracino visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni di cs del dottor Claudio Saracino e fa share e condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita e visita anche i miei profili instagram e twitter e non ti fare paranoie mandami scrivimi in privato in pubblico ti risponderò ti dimostrerò scientificamente perché l'ipnosi agisce anche sui capelli perché ricordati l'ipnosi è una medicina alternativa riconosciuta dall'associazione medica mondiale nel 1958 e dalla chiesa con Paolo Pionor nel 1847 quindi a tutti i santigrismi scientifici per le persone non ignoranti le persone la gente di buona fede e vai anche su riviste scientifiche internazionali come The Lancet Life e documentati ok? su internet per cui qui non stai parlando con ciarlatani con guru fuffagur eccetera eccetera stai parlando con un esperto l'ipnosi vera e professionale un bacio un abbraccio e alla prossima del Dr. Claudio Sareciano e alla prossima e alla prossima e alla prossima